Addio al papà del coniglio Roger Rabbit si è spento a 86 anni nella sua casa a Bristol in Gran Bretagna circondato dai suoi cari l'animatore anglo-canadese Richard Williams vincitore di tre Oscar e tre BAFTA aveva un tumore ma come riferisce la figlia Natasha Sutton e Williams ha lavorato senza sosta fino al giorno della sua morte disegnando e animando. Nato a Toronto nel 1933 si era innamorato dell'animazione già a 5 anni quando aveva visto il capolavoro Disney Biancaneve e i Sette Nani come lui stesso aveva raccontato recentemente dicendo da bambino ho sempre voluto andare alla Disney, ero un tizio intelligente così portai i miei disegni e alla fine ci entrai scrissero addirittura un articolo su di me visto che negli studio ci rimasi per due giorni e potete solo immaginare che cosa rappresentò per me un bambino, un bimbo arrivato negli anni 50 in Gran Bretagna la verò a Casino Royale del 1967 la Pantera Rosa colpisce ancora del 1975 e la Pantera Rosa sfida l'ispettore Clouseau del 1976 ma il grande successo e molti premi tra i quali un BAFTA e due Oscar arrivarono con chi ha incastrato Roger Rabbit il film con protagonista Bob Hosking girato con tecnica mista nel 1988 da Robert Zemeckis oltre che per Roger Rabbit vinse un BAFTA per The Little Island del 1958 e nel 1971 un Oscar per l'adattamento del canto di Natale di Charles Dickens i